buonasera oggi siamo collegati per un'intervista con leonardo facco editore scrittore e anche fondatore del movimento libertario italiano buonasera leonardo buonasera grazie mille per l'invito dunque spiego perché è nata questa intervista io la settimana scorsa dieci giorni fa in una trasmissione credo border lights mi sono lanciato ho ripetuto per l'ennesima volta l'allarme del fatto che ti possono chiudere quando hai pochissimi contanti ti possono chiudere il conto in qualunque momento diventi praticamente uno schiavo del sistema che dipende dalla pressione di un bottone avevo citato il fatto che è successo in cina due settimane fa quando appunto un gruppo di persone che volevano andare a protestare sono state bloccate con un tasto praticamente hanno perso tutto la possibilità di viaggiare la possibilità di ritirare contanti eccetera eccetera qualcuno mi ha scritto dice guarda che leonardo facco ha scritto un libro proprio su questo che si chiama elogio del contante e quindi mi è venuta voglia di intervistarti questo libro è già se non sbaglio di 4 5 anni fa giusto è di 7 anni fa del 2000 anni fa quindi sei molto in eri molto in anticipo sui tempi perché io l'ho letto anche molto velocemente devo dire che si si legge con una facilità per persino per uno come me che capisce poco o niente di economia è veramente chiaro e semplice sono concetti molto molto attuali oggi proprio oggi fra l'altro è arrivata la notizia per sempre per stare nel tema che una una reporter tedesca che si chiama alina lip che è stata in donbass per sei mesi a fare reportage indipendenti ovviamente dal donbass mostrando davvero quello che succede ha fatto un video di denuncia su youtube perché ha denunciato il governo perché l'hanno messa sotto inchiesta per per propaganda pro putin e nel frattempo le hanno chiuso i conti bancari a lei a suo padre quindi era disperata anche per questo motivo quindi questo problema della possibilità di chiuderti i conti per punirti in qualunque modo l'abbiamo già visto diverse volte era successo anche in canada sei mesi fa quando c'erano i manifestanti di Trudeau e Trudeau a un certo punto per punirle e mandarle a casa e ha semplicemente spento il conto in banca quindi è un problema che andiamo ad affrontare di sicuro nei prossimi anni dobbiamo veramente stare attenti per questo che ritengo importantissimo quello che appunto tu chiami l'elogio del contante ovviamente il problema non è soltanto la paura di restare di venire chiusi ma è proprio il fatto che ti tolgono un concetto fondamentale di libertà che è quello di fare quel cavolo che vuoi con la tua vita con i tuoi soldi questo è il concetto fondamentale che mi sembra di aver colto dal tuo libro giusto? Esattamente esattamente l'attacco al contante infatti non è voglio dire un attacco insignificante alla libertà è proprio un attacco devastante alla libertà è tra l'altro l'attacco all'ultimo centimetro di libertà monetaria esistente e questo purtroppo avviene da molti anni tu hai citato molti casi e sono interessanti ma io te ne cito uno che ha una somiglianza con la follia che stiamo vivendo adesso che è anche quello greco in Grecia quando nel 2011 cominciarono a resettare il paese una delle prime cose che fecero fu quella appunto di bloccare i banco ma te permettere soltanto che le persone prelevassero una quantità decisa dal governo di soldi questo per quale motivo bisogna cercare di capire quanto la libertà economica è importante perché senza libertà economica non esiste libertà politica del resto lo diceva Von Hayek che era un grandissimo premio Nobel dell'economia spiegava che coloro che decidono tutti i fini sono coloro che detengono tutti i mezzi ecco il contante è un mezzo bisogna cercare di capire cos'è il denaro infatti il mio libro ti ringrazio per averlo definito un libro semplice da capire perché purtroppo una delle tante cose anzi che in Italia sono abbastanza confusi è la questione monetaria la teoria monetaria è molto chiara e una delle poche cose che la gente sa del denaro è che il denaro non è monopolio dello Stato il denaro nella storia dell'umanità è sempre stato frutto di di cooperazione e di processi di mercato vale a dire è stato tante cose nel tempo no è stato conchiglie è stato perline è stato animali da cui deriva il termine capitale è stato sale da cui deriva il termine salario ma è sempre stato qualcosa fino a quando non si sono scoperti metalli preziosi cioè oro e argento che veniva scelto liberamente dalla gente l'avere concesso da cent'anni a questa parte il monopolio della moneta al governo o meglio non è che l'abbiamo concesso se la sono presa ha significato dare inizio alla fine della libertà vera perché senza il frutto del proprio lavoro difficilmente una persona può cercare di disporre della propria vita come meglio crede e purtroppo questo attacco al contante non arriva adesso l'altro giorno leggevo sul corriere della sera addirittura qualcosa che quando io lo dicevo passavo per complottista del resto siamo abituati no a essere abitati come complottisti eh il corriere della sera diceva pronto il microchip sotto cutaneo a cento novantanove euro per poter pagare direttamente appoggiando la mano ecco siamo nella cosiddetta loro la chiamano era del denaro digitale ebbene no io cito Marshall McLuhan che era un sociologo il quale eh approfondiva le questioni della comunicazione che a noi sono tante care e Marshall McLuhan diceva una cosa fondamentale il contante è la carta di credito dei poveri bene se eh senza contante andiamo verso la povertà senza aver la possibilità di disporre dei nostro del frutto del nostro lavoro andremo sicuramente verso la miseria e saremo dei polli da batteria tra l'altro questa storia qui della io ricordo l'inizio della guerra al contante già ai tempi a dire credo già parliamo di dici anni fa che sia nata proprio mi sembra che fu la Gabanelli che per prima lanciò pubblicamente non per prima ma che rese diciamo importante a livello di dibattito pubblico questo argomento eh cito un passaggio dal tuo libro eh tutti coloro che si sono accodati all'idea che il denaro assonante è il male di tutti i mali una specie di peste nera chi ha fra tutti coloro scusa chi più ha lasciato il segno nell'opinione pubblica è stata Milena Gabanelli giornalista condottrice di report durante la puntata del 15 aprile 2012 lanciò una uno speciale intitolato con tanti saluti al nero in cui vestiti i panni della Giovanna d'arco delle tabelline questa te la rubo perché è fantastica Giovanna d'arco delle tabelline si scagliò contro l'uso delle banconote avanzando una proposta al governo affinché quest'ultimo imponesse l'uso di post di carte di credito e di debito della moneta elettronica in generale la giornalista chiude così il suo accorato appello ad adottare il progetto di qui sopra diceva Gabanelli ricordo che solo tre categorie umane non possono fare a meno del contante lo spacciatore il delinquente l'evasore categorie alle quali non sta certamente a cuore il futuro del paese in cui vivono quindi scusa un attimo voglio dire la nonna che tiene i soldi sotto il materasso a quale di queste tre categorie fa parte per esempio tanto per cominciare bella domanda bella domanda andrebbe rivolta alla Gabanelli guarda è chiaro che il resto mi ricordo anche la tua puntata sulla Gabanelli e quindi siamo nel sol nello stesso identico solco il problema quale è il problema è che le persone purtroppo approfondiscono poco le persone si informano poco e abbiamo in italia questo mantra particolare che la televisione la quale quando in maniera massiva rilancia un argomento con l'argomento diventa l'argomento del bar e quindi sembra che diventi la verità la Gabanelli è stata quella che per prima ha dato diciamo valore di massa a questa battaglia contro il contante ma la battaglia contro il contante viene da molto prima viene viene proprio da quell'ultimo concetto che tu hai citato che è l'evasione fiscale tu sai che ovviamente oggi noi viviamo in un mondo folli in una distopia causata dalla paura cioè la gente ormai ha incarnata dentro di sé la paura bene allora quello che bisognava fare era creare il discredito il discredito verso categorie cattive non a caso tu citi appunto gli spacciatori delinquenti gli evasori eccetera bene per fare la guerra al contante bisognava scatenare quella che è sempre quello che è sempre il sentimento fondamentale che il governo utilizza per metterci gli uno contro gli altri cioè l'invidia e la Gabanelli ha fatto quel tipo di lavoro molto bene poi in quel programma e in diversi articoli saggi non soltanto miei ma soprattutto di altri economisti col quali io collaboro tutte le cose che ha detto sono state facilmente smontate ma nel mio libro c'è proprio un capitolo dedicato a tutte le farloccate che vengono raccontate in merito al perché andrebbe abolito il contante la realtà è una sola credimi la realtà è quella che loro nel momento in cui controlleranno il tuo potere economico avranno definitivamente controllato te stesso dunque prima adesso io sono saltato alla Gabanelli perché ne parlavamo giustamente e prima per la prima parte del tuo libro però tu fai un discorso introduttivo più generale anche qui ti leggo il passaggio perché è molto faccio prima piuttosto che riassumerlo io è una lunga tirata che tu fai contro il sistema fiscale in generale che è invasivo e prevaricatore delle libertà fondamentali tu hai scritto nonostante gli strumenti legislativi accennati sopra lo stato non ha mai non ne ha mai abbastanza i governi hanno sempre qualche buco imprevisto qualche spesa in più da fare qualche deficit da sforare qualche servizio pubblico da implementare qualche diritto tra virgolette da garantire ergo il grande fratello fiscale che dello stato è il braccio armato è convinto che c'è ancora qualcosa che sfugge al suo controllo quel qualcosa è il contante e qui parte appunto parte è la base della della tambur battente solleticando i peggiori istinti della popolazione come dici tu sul tema iniziato dal 2011 in poi una campagna mediatica c'entrava anche mario monti se non sbaglio in tutto questo no assolutamente io credo che con mario monti sia iniziata l'era che ci ha portato alla folle situazione attuale il qr code che è stato introdotto con la questione della scusa dell'obbligo vaccinale è semplicemente uno strumento che va nella direzione di quello che noi abbiamo chiamato prima il microchip o meglio che ha chiamato il corriere della sera il microchip per poter essere poter avere una vita sociale solo ed esclusivamente se tu rispondi a ciò che il governo ti richiede è iniziata allora la questione è che quando si parla di contante ed evasione fiscale stiamo parlando di due facce della stessa medaglia io scusa se mi autocito ma nel 2009 scrissi un libro intitolato elogio dell'evasione fiscale nel quale partì proprio da un'affermazione dell'allora ministro paolo a spado a schioppa il quale disse che le tasse sono una cosa bellissima non so se te lo ricordi le tasse sono una cosa bellissima se tu parli con la gente comune se tu parlavi con la gente comune soprattutto 15 anni fa beh si mettevano quanto meno a ridere perché io ho provato a fare anche l'esperimento di mettermi fuori dall'agenzia delle entrate stare in fila con le persone e a chiedere a loro scusate secondo voi le tasse sono una cosa bellissima metto assicuro che a parte un folle su cento che per qualche strano motivo era contento di pagare le tasse il 99 per cento le tasse non era d'accordo nel pagarle poi c'è un altro fatto loro continuano a parlare di contante l'evasione fiscale ciò che la gente non capisce invece è che lo stato continua a spendere continuamente l'evasione fiscale in realtà in italia è in linea con l'evasione fiscale di tutti i paesi cosiddetti occidentali lo è sempre stato negli ultimi 15 anni in linea con tutti i paesi occidentali ciò che invece con tutti i paesi occidentali non è in linea è la spesa pubblica statale se tu vuoi vedere più sono le entrate e le entrate sono sempre state più alte in questi anni continuano ad incrementare le entrate fiscali intendo per lo stato tu ti accorgerai che lo stato spende sempre di più e questa spesa continua trasforma lo stato in una specie di mostro bulimico che avrà sempre più bisogno dei tuoi soldi beh oggi siamo arrivati al punto che vuoi per ragioni di teoria monetaria cioè del fatto che purtroppo la stampante monetaria di stato continua a fare a creare inflazione vuoi per il fatto che le spese sono debordate e questo è soprattutto a livello di clientelismo non tanto per fornire servizi abbiamo visto come hanno ridotto la sanità pubblica benché spendessero sempre di più per la sanità pubblica beh di fronte a questa continua mancanza di soldi da elargire ad amici degli amici per creare clientelismo e così via ecco che l'evasione fiscale diventa sempre il capo espiatorio eccezionale per poter ancora una volta cercare di mettersi ribadisco il concetto tutti contro tutti perché il punto fondamentale e soprattutto metterci sotto controllo e infatti proprio sull'argo contro l'argomento dell'evasione fiscale cosa che mi ha colpito molto tu hai scritto l'ottantanove per cento di evasione ed elusione fiscale non verrà comunque con toccato dalle misure anticontanti questi che ti dicono bisogna limitare a milla cinquecento a mille cinque duemila eccetera eccetera anche perché il grosso tra virgolette proviene da attività proprie del sistema bancario siamo in un mondo nel quale un hedge fund può mettere a bilancio la vera natura delle sue operazioni soltanto dopo la loro fine e di fatto nemmeno quella si tratta di oggetti che muovono in una situazione contabile e giuridica che rende impossibili controlli migliaia di miliardi di dollari ogni anno e secondo voi in queste condizioni sarebbe impossibile nascondere un traffico di droga che cuba cento volte di meno cosa impedisce a un mafioso di farsi un hedge fund cioè un fondo di investimento insieme ad altri soci potrebbe riciclare il denaro al ritmo di cinque transazioni al secondo e in pochissimi giorni far sparire miliardi e miliardi in una babele di scatole cinesi immersi in un enigma a volte nel mistero come attualmente accade con quel tipo di entità finanziarie esattamente così lo hai detto oggi addirittura a sette anni in distanza ovviamente gli strumenti digitali i bancari che hanno sono ancora più sofisticati quindi il problema è che l'attacco al contante significa l'attacco tendenzialmente alla massa popolare non certo ai papaveri della finanza agli amici degli amici alla casta politica e così via questo è il punto fondamentale che le persone devono comprendere del resto avete forse visto diminuire scandali legati ad evasione in questi anni no assolutamente no e tra l'altro tu hai citato l'illusione fiscale sia ben chiaro una cosa l'illusione fiscale non è un reato l'illusione fiscale è figlia della follia normativa che esiste nei sistemi fiscali c'è un sistema fiscale come quello italiano che tra i più folli del mondo in assoluto è uno di quei sistemi che permette a determinate persone di avere un certo tipo di business e certi affari riuscendo a deludere cioè a mettere che ne so a spese una cosa creando una società alla quale far pagare altre cose eccetera così via e finire col pagare poche tasse il problema invece la gente normale quelli come noi quelli che se guadagnano 100 vorrebbero io vorrei pagare zero tasse sia chiaro perché l'unica flat tax che esiste secondo me seria è zero però vorrebbero pagare magari il 10 il 15 per cento di tasse mentre invece in realtà in italia dal punto di vista fiscale a seconda del tipo di attività che si fa si paga dal 52 53 fino all'84 per cento di tasse ti dirò di più la dimostrazione di quello che appena detto sono e tu lo senti spesse volte dire no è ma è inaccettabile che amazon paghi soltanto l'un per cento di tasse ecco e la cosa che dovrebbe capire la gente è questo noi non dobbiamo incazzarci con amazon perché paga l'un per cento di tasse noi dobbiamo fare richiesta al cosiddetto governo cioè cosiddetto potere di avere anche noi il diritto di pagare l'un per cento di tasse si risolve così il problema cioè non si risolve accadendosi sugli altri ma evitando che lo stato si accadisca su di noi vabbè ma questo presuppone uno stato intanto che sappia gestire veramente le proprie spese e che non si ingordo invece per riempire i buchi che ci sono dappertutto hai ragione scusa stavo immaginando un nuovo libro di fantapolitica senti veniamo al rapporto e anche questa è una parte interessante del libro fra banche e stato perché qui è una cosa per io non avevo mai immaginato cioè ma nella mia ignoranza lo ammetto i banchieri sono in prima fila nella guerra dichiarata alla carta moneta già infatti uno perché dice come mai perché qual è la ragione che li porta ad appoggiare leggi liberticide come spesso accade essi forniscono un assist allo stato per comprimere ulteriormente la libertà dei cittadini e poi dici in sintesi l'eliminazione del contante diventa un'arma letale nelle mani dello stato con cui le banche centrali ma non solo quelle sono legate a filo doppio al fine di evitare la temuta corsa agli sportelli a questa è una cosa a cui non avevo mai pensato certo se tu puoi limitare il contante limiti anche la corsa agli sportelli quindi puoi giocare con il famoso come si chiama il quel meccanismo che la riserva frazionaria anche le banche per per investire reinvestire quasi il cento per cento di soldi depositati è giusto a esattamente così è così che si crea il denaro cioè il denaro non lo crea soltanto la banca centrale il denaro lo creano anche le banche commerciali le banche di investimento che ci sono sul territorio proprio dovuto al fatto che la riserva frazionaria oggi in italia si aggira intorno al 2 per cento se non sbaglio l'ultima cifra che mi ricordo io è quella e questo cosa significa significa che il 98 per cento del denaro che la banca ha registrato in digitale non esiste cioè se tutti andassero in banca a chiedere i propri soldi oggi bene si accorgerebbero che i soldi non gli vengono dati perché non hanno la disponibilità altro concetto però qui entriamo nella questione della teoria monetaria che in realtà io non ho approfondito in questo libro ma ci sono tutti gli spunti per approfondirlo e lo consiglio lo consiglio vivamente per cercare di capire qual è il nesso che divide la moneta sana dalla moneta di stato però torniamo la questione banche guarda io ho un'età abbastanza ho 60 anni insomma ho l'età tale da permettermi di ricordare cos'erano le banche io mi ricordo quando si entrava ero bambino e magari rientravo in banca con mio padre che aveva un sacchetto di soldi contanti non so perché era andata bene la giornata al lavoro addirittura ti veniva incontro il direttore ti faceva sedere ti diceva buongiorno come sta eccetera prendevi cosa mi ha portato oggi di bello esatto cosa mi ha portato oggi di bello e così via insomma eri un cliente oggi non sei più cliente oggi le banche sono diventate un po quello che sono diventati commercialisti cioè ufficialmente attività private cioè partite iva che in realtà lavorano per lo stato c'è controllano te e questo lo si è visto con l'implementare di alcuni strumenti che lo stato ha adottato ad esempio per quello che riguarda le banche pensano soltanto al limite di ritiro del contante pensa serpico serpico è quello strumento diabolico che è stato introdotto appunto 7 8 anni fa circa il quale algoritmicamente cerca di controllare il tuo conto corrente e vedere se per caso una volta ritiri di più piuttosto che di meno a quel punto parte la segnalazione pensa al fatto di quando essendoci il limite del contante oggi a 2000 euro di poter da poter ritirare cioè tu non è che se vai in banca non puoi ritirare ai 10.000 euro sul conto corrente non puoi ritirare 8.000 euro tu li puoi ritirare 8.000 euro il problema è che immediatamente il bancario il direttore ormai non lo vedi più il bancario ti dice no scusi la legge dice che lei non può ritirare 8.000 euro e tu dice ma sono soldi miei no vabbè mi faccia per favore la dichiarazione mi dica che cosa li usa e così via beh io una volta a me è capitato appena hanno introdotto sta cosa l'ho fatto sono andato in banco ovviamente eh ho ritirato più dei 3.000 euro che avevano posto come lì anzi erano 1.000 euro che avevano posti come limite mi ha chiesto per cosa mi servissero gli ho detto che andavo a puttane e mi sono divertito moltissimo sì sì ho fatto questo ma bisogna farlo perché poi guarda mettiamoci in testa una cosa qui se non ti ha detto non ti ha detto scusi ma adesso le puttane farò lo scontrino anche loro no anzi gli ho detto vado a puttane perché lo posso fare in nero così almeno si è incazzato due volte e voglio dire quello che bisogna cercare di comprendere è che se noi passivamente continuiamo ad accettare tutta questa avanzata normativa tutte queste restrizioni e purtroppo in questi due anni ho visto cose inenarrabili come tu stesso hai raccontato beh mettiamoci in testa che da questa follia da questa caienna da questo panopticon non ne usciremo più panopticon è un concetto che tu spieghi molto bene nel nell'introduzione del libro fra l'altro cioè lui spiega eh che praticamente è un germin bentham no aveva pensato a una forma di controllo qui si arriva proprio ai concetti di biopolitica di focolta di deleuse eccetera e così via è un carcere circolare completamente trasparente in cui abbiamo il guardiano che sta al centro e praticamente 24 ore su 24 vede esattamente tutto quello che fai questo in maniera molto semplice bene la società che stanno creando è esattamente questo cioè il codice QR code al di là dell'essersi dimostrata tutta una serie di fallace quelle che vi hanno raccontato e hanno raccontato su vaccinazioni salute eccetera e così via in realtà quello che serviva non era tanto implementare il QR code per farvi vaccinare ma implementare il vaccino per dare a tutti un QR code in modo tale che oggi attraverso una app che magari in questo preciso momento non è controllata ma ci vuole pochissimo questa app permetterà quando voi mostrerete il QR code per andare a bere il caffè mostrerete il QR code per andare in piscina mostrerete il QR code per comprare un biglietto aereo vorrà dire che voi state vivendo dentro il panopticon in cui il guardiano che sta al centro in maniera assolutamente trasparente vede quello che avete voi del resto non è un caso non è un caso signori che qualcuno abbia detto eh in futuro non avrete più proprietà privata non avrete più privacy ma vivrete felici per me questo è un incubo dunque concetto più ampio adesso finale cioè il libertarian o libertario in italiano eh eliminare contante cioè tu allarghi alla fine del libro allarghi il discorso al principio al principio della libertà individuale eliminare contante viola il principio filosofico della libertà individuale questa è la mia nota tu hai scritto il contante è un pezzo di libertà accettare l'abolizione significa accettare l'idea che anche la proprietà privata possa essere abolita l'abolizione del contante è una misura liberticida totalitaria da stato ladro una società senza contante è nient'altro che il sogno utopico di tecnocrati statalisti ed ingegneri sociali sempre pronti ad avvallare le peggio tirannie una società senza contante è un incubo per le persone libere per coloro acquista a cuore la libertà difendere la libera circolazione del contante è un dogma un principio intoccabile il contante è un caposaldo della libertà individuale esso sta alla base del libero scambio della cooperazione su basi contrattuali e consensuali sì allora il concetto è molto ampio innanzitutto quando ho citato ingegneri sociali chissà perché Klaus Schwab è un ingegnere non ci avevo visto male insomma dal resto questa storia della creare un governo unico mondiale attraverso la tecnocrazia sta scritto nei piani della fabian society quindi figurati è per quello che viene da lontano per quello che riguarda il mondo del libertarismo il libertarismo è una filosofia politica molto di nicchia che nasce negli stati uniti d'america se vuoi è quello che si può chiamare anche anarcho individualismo che sta dall'altra parte rispetto all'idea di anarcho collettivismo è a radici nell'ottocento americano con personaggi come Elisander Spooner con personaggi come come si chiamava Turo ecco Turo c'è gente che ha parlato di disobbedienza civile in tempi non sospetti ed è l'idea di difendere in assoluto il concetto di libertà individuale ma non esiste libertà senza diritti di proprietà questo è il punto fondante e il diritto di proprietà e qui risaliamo al 600 addirittura John Locke il quale scrisse appunto nei suoi saggi spiegò cosa fosse e quanto fosse determinante il diritto di proprietà il diritto di proprietà non è soltanto il proprio corpo non è soltanto il se stessi il fisico ma è anche ciò che tu mischi col tuo lavoro e ciò che crei ecco perché il contante rappresenta esattamente quello del resto il contante breve digressione la moneta il contante nascono perché nel momento in cui un'economia semplice fondata sul baratto non riesce a funzionare cioè quando ci sono milioni di persone che scambiano fra di loro è difficile che tu possa trovare quello che vuole un pollo in cambio di quello che vuole uno pneumatico e la moneta nasce il denaro nasce proprio per quello perché è non dimentichiamocelo mai il denaro la merce più commerciabile che mai sia stata creata ebbene questa merce questo prodotto non è altro che un prolungamento della tua proprietà e se noi non cerchiamo non capiamo e mi pare che non abbiamo capito è perché nel momento in cui la gente ha dato il corpo alla patria ci sono grossi problemi dal punto di vista filosofico ideologico però la realtà è questa nel momento in cui tu non hai la capacità di difendere di difendere il diritto di proprietà to cure che parte proprio dal proprio corpo e dal prodotto cioè dal frutto del tuo lavoro beh questo significa che con la libertà noi abbiamo poco a che fare e purtroppo gli stati vanno in quella direzione voi guardate soltanto quello che è successo negli ultimi 50 anni e vi accorgerete che sempre di più le nostre libertà vengono compresse ma quando parlo di libertà parlo anche di responsabilità perché libertà e responsabilità sono due sinonimi se noi oggi abbiamo accettato di tutto noi abbiamo accettato che un politico qualsiasi uno scalzacane qualsiasi che non ha nessuna competenza possa decidere di come devi vivere tua casa tua questa è la follia cioè sembra quasi che l'umanità sia venuta avanti pensiamo soltanto ai nostri nonni ai nostri padri cioè che sono usciti dalla guerra e che cosa hanno fatto senza bisogno dello stato ci hanno creato la ricchezza e ci hanno permesso di migliorare sembra quasi invece oggi che tutti noi non siamo capaci di fare nulla se non c'è una legge dello stato che lo prevede bene ogni volta che lo stato interviene nella nostra vita nella società civile è un pezzo di libertà e di proprietà che noi perdiamo bene bella chiacchierata rapida essenziale e molto 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 significativa secondo me ultima domanda se qualcuno fosse interessato al tuo libro c'è c'è dappertutto ormai in tutte le librerie più o meno online però c'è una in particolare dove andare a a ordinarlo sì guarda mi impreme siccome io sono una personaggio di nicchia che sicuramente è fuori dagli schemi da tanti anni ci tengo a citare la libreria del ponte il mio editore trame d'oro la libreria si chiama si chiama trame d'oro allora l'edizione trame d'oro miglio verde sì ok il il l'editore è libreria del ponte punto com è un libraio proprio vero fisico un altro un libraio vecchio stile di bologna che lui oltre a fare il libraio fa anche l'editore quindi trovate sul sito libreria del ponte punto com trovate tutto perfetto sosteniamolo mio invito ti ringrazio moltissimo leonardo e a presto grazie a te buona buona giornata buona serata grazie a tutti